Iesina, il sabato pomeriggio verrà inaugurata questa mostra che è intitolato Mirabilia. Sì, questa mostra è la prima mia personale a Fano nel Palazzo Bracci Pagani. Questa mostra è stata presentata prima a Firenze nel mese di giugno all'Accademia delle Belleate del Disegno e mi piaceva rappresentarmi anche un po' nella mia città dove vivo. Il programma inizierà alle ore 17? Sì, il programma inizia la conferenza ufficiale alle ore 17 nella sala di rappresentanza della Fondazione della Carifano e poi prosegue alle 18 proprio nel Palazzo Bracci Pagani dove sarà anche un piccolo brindisi, presento tutte le opere. Quali opere potranno essere ammirate? Allora, ci sono quasi 50 opere tra grande e piccoli lavori, anche scultura, quadri, installazioni, insomma è sostanziosa la mostra. Avete organizzato anche diversi eventi collaterali da qui fino a metà gennaio? Sì, siccome questa città è vivo, molti di questi che mi partecipano ai vari eventi sono proprio i miei compagni di viaggio. Perciò abbiamo laboratori per bambini, vengono storici dell'arte, viene una serata con il coro malatestiana di Fano, poi ci sarà una serata con tre poeti e la Frida Neri. Insomma c'è veramente tanto da vedere, penso proprio nel momento di Natale dove si corre sempre magari anche un momento di fare qualcosa di bello di pensare insomma per il prossimo anno, per l'anno che è passato. Io aspetto tutti sabato, intanto alle 17 alla sala di rappresentanza e poi alle 18 nel Palazzo Bracci Pagani.